Cosa fai a Olbia quando c'è caldo e ti vuoi rilassare? Te ne vai al mare! Ed è quello che faremo oggi, infatti prenderemo il bus numero 4 dalla fermata di San Simplicio, di preciso dalla fermata delle catacombe di San Simplicio e da lì arriveremo fino a Pitulongo Perfetto, grazie Scusi, devo riterare nella macchina? Oh sì, adesso Però prima facciamo una pausa qua al Pozzo Sacros a testa, la prima fermata nel nostro viaggio Questo posto è veramente molto ben curato È stata costruita una ampia zona parcheggio C'è il cancello per tenerlo chiuso la notte Sono stati messi dei fantastici segnali per riconoscere le piante Quindi le piante che sono parte integrante del territorio Olea Europa... Ea... Europea? Ed è in mezzo al verde I Pozzo Sacri sono sistemazioni monumentali di fonti d'acqua Nelle quali veniva praticato il culto dell'acqua Fanno parte del periodo nuragico E ora prendiamo di nuovo il bus numero 4 con lo stesso biglietto Perché tanto ha una validità di 90 minuti E ce ne andiamo al mare Questa è la spiaggia di Pittulongo È la prima tappa mare del bus numero 4 È la spiaggia preferita dagli ordensi Ed è stracarica di servizi Ci sono tre ristoranti sulla spiaggia I bagni con docce I parcheggi a pagamento credo Sono a pagamento? No, non sono a pagamento Non a pagamento C'è una diattiva su questa questione E prima o poi sicuramente saranno a pagamento Per cui venire in basso è sicuramente Molto, molto, molto meno costoso Ti puoi godere un caffè con questo panorama pazzesco Tranne io Questo è finto L'ho già bevuto E' aperto finto Da qua si vede anche l'isola di Tavolara Che al tramonto certi giorni diventa rosa Ed è una rosa spettacolare E infatti è molto apprezzato dai frofrograferi Ora siamo alla spiaggia Lo Squalo Che sta a dieci passi da Pitulongo Perché da Pitulongo E' possibile accedere a tutte le spiagge della costa Quindi Pitulongo Squalo Il Petticano Mare e rocce Bados Scala banana Dalla spiaggia Lo Squalo C'è un sentiero che passa sopra gli scogli E da lì si arriva alla spiaggia successiva In alcuni punti bisogna scavalcare Quindi arrampicarsi sulle rocce degli scogli E andare oltre Però sono sicuro che qua da qualche parte ci sia qualche sentiero Che permetta di scavalcare questa zona Io però me la faccio oggi La pioggia che c'è qua dietro di me è il Petticano Questa è invece il Pados La nostra ultima tappa di questo percorso Prendere il bus e riprenderò l'Omnia Prima facciamo un attimo di chiarezza sul bus numero 4 Il bus numero 4 è il bus che porta alle spiagge La prima fermata spiaggia è Pitulongo La successiva è lo Squalo Dopodichè porta Pellicà Mare e rocce E infine Bados Che è la spiaggia dove sono adesso Il biglietto costa sempre 1 euro Tranne nel mio caso 1 euro 50 Perché l'ho fatto sul bus Se lo fai sul bus ha un prezzo maggiorato di 50 centesimi Altrimenti si può fare tranquillamente al tabacchino O in ogni bar convenzionato a spot Oppure attraverso l'applicazione come faccio di solito Questo è sicuramente un viaggetto che consiglio di fare Durata 2 ore, 2 ore e mezzo, anche 3 Perché per fare male e cultura basta 1 euro Il biglietto di un bus